Ciao mamma, oggi sono andata a scuola alle 10 e mezza, papà mi ha accompagnato, siamo andati su, poi papà mi è venuto a prendere e siamo andati dalla nonna Landa, poi siamo andati al mercato e la nonna mi ha comprato questo barciale e poi abbiamo preso patatine e pollo e poi la nonna si è comprata i calzetti, poi siamo tornati indietro e abbiamo mangiato patatine e pollo, poi io ho mangiato le fragole e poi la nonna mi ha preso i calzetti. Questa catena lei è anche per Emanuele.